Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino, sono le 7 e oggi è venerdì 2 ottobre 2020, su canale 17 c'è occhio ai giornali, iniziamo subito dal calendario, vediamo il santo, oggi la chiesa fa memoria dei santi angeli custodi e ognuno di noi ne ha uno, allora salutiamo anche tutti gli angeli custodi di tutti i nostri telespettatori e gli angeli custodi sono ovviamente insieme a noi per accompagnarci e assisterci anche se sono invisibili ma loro sono presenti e sono anche molto premurosi. Metteteli alla prova. Alle 7 e 11 l'alba, il tramonto invece è per le 18 e 51. Uno sguardo al tempo per la giornata di oggi, cielo parzialmente nuvoloso con il transito di nuvole stratificate, il bollettino della protezione civile indica anche la possibilità di brevi piovaschi nel settore montano della regione, le temperature lieve aumento. Per quanto riguarda la giornata di sabato ecco il peggioramento con piogge sparse anche a carattere di rovescio temporale che si sposteranno poi verso la costa, i fenomeni potranno risultare più probabili tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio. Temperature in aumento nei valori minimi. Domenica 4 ottobre, giorno di San Francesco. Allora per le Marche tra l'altro una giornata particolare, lo vedremo tra poco. Il cielo sarà poco nuvoloso al mattino, precipitazioni con fenomeni sparsi nelle zone montane del pomeriggio. Lieve instabilità anche per l'inizio della prossima settimana. Allora iniziamo dal Corriere Adriatico. Prima leggiamo tutte le notizie del Corriere Adriatico, poi andiamo sul resto del Carlino. L'apertura dell'edizione di Pesaro. Virus, il comune corre a ripari. Questo è il titolo. Porte automatiche con il termoscanner integrato. Allo studio un nuovo protocollo di sicurezza. In previsione della seconda ondata di contagi coinvolte anche le sedi distaccate del palazzo. Denunciati invece dieci leoni da tastiera. Sono quelli che dietro al monitor, dietro al computer, forti anche di una sorta di anonimato che poi su internet fa ridere, hanno minacciato gli ausiliari del traffico. Quelli che fanno le multe non sono vigili, non sono poliziotti, sono quelli che si riconoscono perché hanno una casacca e girano per le strade e per fare le multe. Appunto sono chiamati ausiliari del traffico. Da Pesaro un tappo alla foce del fiume Foglia, barche in trappola. Poi a Pesaro Frenquellucci incontra Di Maio verso il disgelo. Addio a 93 anni alla storica titolare della cartolibreria. Siamo a Vallefoglia. Di spalla invece Covid Hospital, solo un giorno per essere già operativo. In meno di 24 ore può riaprire e quindi accogliere i malati. E poi il premio, sempre in prima pagina sul Corriere, o l'Africa nel cuore, che va ad un sindacalista straniero. Andiamo avanti. Entriamo nelle pagine interne del Corriere Adriatico. Come dicevamo, di questa seconda ondata che, ahimè, ormai è in calendario. È solo questione di tempo, ma senza mettere ansia e paura a nessuno. Sta nelle cose, lo sapevamo, che con l'arrivo dell'autunno sarebbe arrivata anche la seconda ondata di questo Covid. Le scuole e la riapertura delle scuole hanno dato, ovviamente, il loro contributo. E quindi soltanto ieri, 2.500 casi in un giorno, insomma, già dà il senso un po' della situazione. Insomma, c'è poco da fantasticare. Intanto noi occupiamoci di questo Covid Hospital, che è a Civitanova, ormai lo sappiamo bene. È una struttura ospedaliera temporanea come misura di contenimento dell'emergenza Covid-19, realizzata al Polo Fiera di Civitanova Marche. È pronta ad essere di nuovo attivata e serviranno soltanto 12-24 ore. In piena attività sarebbe costato però alla Regione, invece, circa 1.300.000 euro al mese. Se da qualche mese fa, quando è stato chiuso, soltanto dopo pochi giorni, fosse rimasto aperto e non chiuso, sarebbe costato 1.300.000 euro al mese. Ma a bocce ferme, quindi dal mese di giugno, il polo sanitario costa 60.000 euro al mese. Quindi c'è una bella differenza. Tre mesi soltanto appunto di attività sarebbero costati quasi 4 milioni. Invece ora viene pagata soltanto la vigilanza, quella che controlla la vigilanza cosiddetta armata, e quella contro il rischio di incendi. Il 5 giugno la chiusura del centro dopo soli nove giorni e il nodo del personale su base volontaria. La seconda pagina ospita un'intervista al neopresidente Acquaroli, che sull'astronave di Bertolasio, così viene definita, parla dell'ipotesi riapertura. E lui dice, il nuovo governatore Acquaroli, solo quando sarà necessario. Però all'epoca, prima di diventare appunto governatore, disse che piuttosto di attivarla sarebbe stato più opportuno lasciarla lì ferma, in stand by, nell'ipotesi di una seconda ondata. In quel senso l'atteggiamento della regione appariva giustificato più da questioni politiche che sanitarie. Quindi l'apertura a tutti i costi, quando ormai i malatti in terapia intensiva erano veramente pochissimi, tant'è che dentro in quell'astronave, in quell'ospedale, entrarono più o meno un paio di pazienti, poi furono trasferiti, quindi insomma sembrò quasi uno spreco di denaro pubblico. E Acquaroli parlò appunto di una forzatura. E adesso che da fare del Covid hospital civitanovese, che cosa fare di questa struttura? La soluzione, risponde Acquaroli, deve essere la più equilibrata per il territorio e per fronteggiare l'eventuale ripresa della pandemia nella maniera migliore. In che modo? Non è possibile e non è pensabile che Civitanova si faccia carico di tutta l'emergenza Covid, solo perché ospita l'astronave di Bertolaso. E dall'altra parte non è pensabile che venga annullata nuovamente l'attività ospedaliera per gestire l'emergenza coronavirus, a scapito dei pazienti con altre patologie. Covid, nuovi focolai, stato di emergenza fino a gennaio 2021, sempre dal Corriere, il Premier Conte dice la situazione critica, proporremo la proroga in Parlamento. La senatrice fanese a Coto dei 5 Stelle, l'atteggiamento prudente ha comunque dato risultati. Il Ministro Speranza anticiperà martedì il nuovo DPCM e mentre Burrioni, il virologo, torna a parlare dopo aver deciso di fermarsi, di non esternare più, così come aveva annunciato, e dice Burrioni, attenti, il virus è forte, non mollate. Queste sono dunque le pagine del Corriere sull'epidemia. L'epidemia ribaltata ora l'onda più alta in veste Lascolano, il Piceno a settembre ha avuto 222 casi come a marzo, superando le altre province. Recovery per Covid stabili, sono a 30, fermi a 30, ma passano da 2 a 6 i pazienti in terapia intensiva. Anche qua le Marche con 28 positive ieri, tra le regioni virtuose, in una giornata comunque nera per l'Italia, oltre metà dei contagi, 15, sono avvenuti per contatti in ambito domestico. Allora, viene ancora da dire ai marchigiani che ci ascoltano, in questo momento in televisione, che guardano la rassegna stampa, facciamo bene il nostro lavoro, manteniamo distanze di sicurezza, perché questa è l'unica cosa che ci evita il contagio. Distanti, distanti anche a costo di essere a volte poco cortesi, un po' scortesi con qualcuno che magari un po' soprapensiero, si avvicina troppo a voi, non abbiate paura di dire stiamo distanti. Io lo faccio tutti i giorni con le persone che vengono a che magari vogliono parlarmi e non ci pensano soprapensiero. Ecco, glielo ricordo io. Stiamo distanti, teniamo la mascherina e facciamo questo sacrificio. Anche in casa, anche in casa. È importante. Allora, adesso invece parliamo di questa, poco fa dicevo, di questa cosa importante, di questo appuntamento importante per le Marche. Il 4 di, cioè dopo domani, il 4 di ottobre è San Francesco, patrono d'Italia. Tocca alle Marche andare nella nostra vicina Umbria, nella vicina Umbria ad Assisi, per questo appuntamento importantissimo. Governatore, sindaci e 1.700 pellegrini, le Marche ad Assisi per San Francesco. Il primo cittadino di Ancona, quindi Mancinelli, protagonista domenica dell'evento. Presenti anche il Premier e due ministri. È un appuntamento che tra l'altro trasmetteremo in diretta anche noi sul Fano TV, sul canale 17. Giunta e commissioni. Le caselle da riempire in attesa del Consiglio. Qui parliamo ovviamente ancora del toto nomi, toto giunta. Il 19 ottobre è stata fissata intanto la prima riunione dell'Assemblea regionale, stretta sull'esecutivo. Entro la prossima settimana ci sarà lo schema definitivo. Il Comune, siamo nelle pagine di Pesaro. Comune porte automatiche con termoscanner integrato. Sono gli accessi per andare negli uffici del Comune di Pesaro. Allo studio c'è un nuovo protocollo per la sicurezza in previsione della seconda ondata di contagi. Coinvolte anche le sedi distaccate. Proroga per il telelavoro riguarda la metà dei dipendenti. Una vaccinazione di massa contro l'influenza stagionale. Studio di fattibilità per un nuovo drive test. Montecchio è insufficiente. Mentre quarantena per una classe dell'Istituto Agrario Cecchi. Una studentessa è stata trovata positiva a casa ai suoi compagni, ma non i docenti. Per le indennità Covid-19, personale dell'area vasta 1 verso lo stato d'agitazione. Ieri lunga e frenetica giornata di consultazioni tra sigle sindacali e RSU. Richiesta l'equiparazione con i consensi già riconosciuti a Marche Nord. Minacce invece agli ausiliari del traffico. Denunciati 10 leoni da tastiera. L'amministrazione di Pesaro Parcheggi parla di insulti e aggressioni verbali sui social. Tuteliamo i nostri dipendenti. La decisione di Pieri rimbalza su Facebook e suscita altra rabbia. Ci vietano anche di sfogarci. Strattonato e derubato del borsello in pieno giorno. Arrivano i carabinieri, ma lo scippatore è scappato. Blitz dei ladri alla geme. Rubati i soldi in cassa. Frenquellucci incontra Di Maio a Roma dopo la frattura. Sapete, quando la Frenquellucci è entrata nel Consiglio, nella giunta pesarese guidata da Ricci, quindi contro il parere contrario di Roma ci fu una frattura, insomma, ci fu un po' di tensione. Adesso invece, come vedete da questa fotografia, Francesco Frenquellucci consegna il dossier del suo lavoro a Luigi Di Maio, tutto quello che è stato fatto in questi mesi a Pesaro e dunque parla di colloquio cordiale. Gli ho consegnato il dossier che appunto è stato svolto in tutti questi mesi. Tappo di sedimenti alla foce del fiume Foglia, allarme per il passaggio quasi otturato, lo vedete in questa fotografia, questo è il tappo, l'acqua praticamente passa soltanto da qui, oltre 400 imbarcazioni rischiano di restare intrappolate. L'assessore Belloni dice ci stiamo organizzando per intervenire. Pescatori e diportisti, meno di tre metri di luce e in certi punti acqua alta soltanto 20 centimetri, fa capire insomma qual è la situazione. Tensione a Palazzo di Giustizia, padre aggredisce la figlia per difendere la donna, intervengono un legale e il vigilante, poi anche un poliziotto, si parla di un parapiglia ieri mattina in tribunale, urla mani al collo e anche grafia. Una situazione incandescente, placata grazie all'intervento appunto, come dicevamo, degli agenti. Il fatto è accaduto ieri mattina e il suo malgrado è diventato protagonista anche l'avvocato Giuseppe Sorcinelli. È proprio lui a raccontare quanto è successo e lo racconta a Benelli sul Corriere Adriatico di questa mattina. Da Valefoglia, l'affetto legato ai giochi e ai libri, addio all'indimenticata Piera Bianchi, che è la storica titolare della cartolibreria aperta nel 1966. È morta a 93 anni, ondata di cordoglio sui social e quindi un pezzo della storia sociale di Montecchio che se ne va via con Pierina Bianchi che aveva questa cartolibreria Piera in via Roma 7, 11 a Montecchio. Tantissimi messaggi di condoglianze che stanno arrivando alla famiglia in queste ore dopo l'annuncio della sua scomparsa. A Urbino invece quorum raggiunto, rettore in pectore da stocchi, l'ascito di forti potenzialità. Eccolo qua, il nuovo rettore che poi è candidato, insomma Giorgio Calcagnini, unico candidato, quindi sicuramente il futuro rettore. Aspettiamo la chiusura del seggio, i voti dovranno essere in qualche modo pesati, giustamente. Lo scrutinio a partire dalle 14, un piano di sviluppo dell'Ateneo da circa 40 milioni di euro. La pagina di Fano invece, entrate ridotte di 45 milioni di euro, ma il documento è provvisorio. La dirigente, Daniela Mantoni, che vedete in questa fotografia, spiega la stima prudenziale del DUP di questo documento, ancora molta incertezza a causa del Covid. Molti valori saranno aggiornati in etinere e il taglio reale non corrisponderà al 25%. Le vie Trave e Fornace a Fano, a 30 chilometri orari, dunque c'è questo nuovo limite annunciato dal Comune, il 6 e l'8 ottobre ci saranno incontri chiarificatori con i residenti. Sull'altra pagina invece del Corriere Adriatico si parla di questo sindacalista che vedete nella fotografia, un sindacalista di colore che ha ricevuto il premio O l'Africa nel cuore da Maria Teresa Nannini. Ridare dignità a lavoro e persone, questa l'utopia della normalità. Poi tamponi per studenti e docenti di una quinta, il caso registrato al Polo 3, tutti in quarantena. Oggi una ventina di studenti iscritti a una quinta superiore del Polo 3 di Fano saranno sottoposti a tampone. Un loro compagno di classe ha infatti risultato positivo al Covid-19 e di conseguenza sono stati attivati tutti gli accertamenti, tutte le precauzioni previste in simili casi. Ma questo ovviamente lo sapevamo già, è normale, sta nelle cose che tanto prima o poi in tutte le classi arriverà il positivo e quindi la quarantena. È difficile insomma evitarlo, ma speriamo che ce ne sia almeno possibile. Intanto la politica locale con nella pagina di Fano Minardi bocciato alle urne, urne non si placa, il PD dice ripartiamo da lui con le riforme, ma il rimpasto di giunta ora in vista prevede solo l'uscita dell'assessore Caterina Delbianco con l'ingresso di Barbara Brunori. Bacchiocchi e Cucchiarini rilanciano le chance dell'ex consigliere non rieletto e c'è questo, come scrive Lorenzo Furlani questa mattina sul Corriere, in particolare si è creato il fenomeno politico del candidato Renato Claudio Minardi, bocciato alle urne, l'ex vicepresidente del PD del Consiglio regionale che nei cinque anni precedenti si era politicamente distinto in sostanza come guardaspalla di Luca Ceriscioli è stato sopravvanzato nelle preferenze da Andrea Biancani e poi da Michela Vitri e a una settimana di distanza dopo una serie fitta di incontri nella sede elettorale di Minardi a rilanciare le chance politiche dell'ex consigliere regionale intervengono Alberto Bacchiocchi e la presidente del PD locale Sara Cucchiarini che è minardiana da sempre e quindi in qualche modo lo spinge. Intanto si parla di questo rimpasto delle deleghe, tra l'altro è atteso tra poche ore un annuncio del sindaco di Fano Massimo Seri e pare che ci sia appunto questa uscita per motivi professionali una cattedra di ruolo a scuola e personali di Caterina Delbianco. È accreditata a sostituirla Barbara Brunoli della stessa lista civica di Delbianco e del sindaco di Fano. La lista si chiama Noi Città. Dalla Valle Foglia ritiro dei rifiuti ingombranti. L'attesa arriva fino a due mesi. Chiarabilli di Fossombrone protesta per il mancato potenziamento del servizio a domicilio di Aset. E poi sotto la minoranza contro la vendita del patrimonio timori per la mancanza di uno scopo nell'alienazione degli alloggi popolari. Dalla Val Cesano Tari l'esenzione è completa. Da San Lorenzo in campo l'esenzione è completa per chi? Per le imprese del lockdown. Agevolazione per due mesi e mezzo prorogati i vantaggi per chi restaura le facciate in centro storico. Da Senigallia la stagione turistica chiude i battenti. Grande rimonta anche senza eventi. Negli hotel il calo è del 35% dopo l'avvio disastroso di aprile. C'è chi resta aperto anche ad ottobre. il presidente di Federalberghi tutti dice abbiamo dato il massimo per recuperare vedete nella fotografia il presidente Marco Manfredi. Andiamo adesso invece sull'altra pagina di Senigallia perché c'è stata una serata al Teatro La Fenice organizzata per ricordare una delle giovani vittime della strage di Corinaldo. Emma rivive nei suoi diari l'abbraccio della comunità presentato il libro con gli iscritti della più giovane vittima della strage in discoteca. E adesso il resto del Carlino. L'apertura è per il biodigestore. C'è questa novità che lancia in anteprima il resto del Carlino questo biodigestore che non si farà a quanto pare secondo il giornale né a Fano né a Canavaccio ma si farà verso la Valle del Foglia. Secondo indiscrezioni sarà realizzato vicino Tavuglia. si decide mercoledì. A centropagine invece la fotografia di Claudio Mari davanti alla sua storica farmacia la San Salvatore che dice il vaccino chi l'ha visto? Antinfluenzale tante sono le richieste ancora però nessuna disponibilità. Concorso Aspes solo 5 su 231 passano la prima prova una maxiselezione per gli addetti ai tributi e poi fu allenatore della VIS addio a Landi il professore prestato al calcio tappo sul fiume Foglia le barche non possono raggiungere il mare si è alzato il fondale poi automobilisti troppo veloci a Fano arrivano altre zone 30 la decisione è dell'assessore sotto invece Burraco Fatale il film pesarese sbarca in città la regista si è ispirata anche a scene vissute nelle nostre spiagge domani il debutto in sala è l'ultima opera di Giuliana Gamba poi dopo le elezioni Toto Giunta Carloni in pol per l'economia tra Francesco Valdelli invece Stefano Guzzi la sfida per il secondo assessorato c'è anche lo sport con la VL i soldi per il nuovo pivot se il Palace potrà riaprire dunque potrà vendere biglietti la Serie C invece del calcio VIS campagna abbonamenti al Via anche con lo stadio chiuso un secondo lockdown non è necessario sulla pagina primo piano del quotidiano nazionale l'epidemiologo Ioanni disse dell'Università di Stanford dice una nuova ondata non sarebbe grave come quella di marzo sappiamo come difenderci la letalità da morbo è molto più bassa di quella preventivata tante persone hanno contratto l'infezione senza avere sintomi quindi cerchiamo come sempre di dare anche notizie che non siano terrorizzanti per nessuno dobbiamo semplicemente lo ricordiamo ancora una volta fino alla nausea fino a farvi cambiare canale lo so però è importante dirlo non sappiamo più come dirlo l'importante sono quelle tre regoline semplicissime distanza mascherina e igiene igienizzarsi le mani lavarsene il più possibile senza esagerare chiaramente ogni cinque minuti come a volte può succedere quando ci si prende dal panico il sangue per immune questa è un'altra buona notizia che vogliamo dare il sangue per immune batte il virus 14 le persone guarite nelle marche funziona la terapia con il plasma degli ex pazienti covid i donatori sono stati 130 raccolte quasi 400 sacche la cura è stata applicata a malati con quadri clinici complessi ed interessati da polmoniti bilaterali lo dice il primario Giacometti e dunque diciamolo perché lo abbiamo già raccontato il plasma iperimmune nelle marche con questa sperimentazione con questa terapia funziona ha salvato vite che erano ormai con un piede dall'altra parte sul biodigestore invece svolta sulla collocazione probabile tra Tavuglia e la zona di Vallefoglia questo secondo le prime indiscrezioni il luogo verrà scelto comunque durante una riunione tecnica in provincia mercoledì prossimo sicuramente non verrà realizzato né a Fano né a Canavaccio per quanto riguarda i tempi entro il 2021 l'inizio dei lavori per la costruzione dei cinque capannoni e questo è un tipico impianto di biodigestore anaerobico realizzato negli ultimi dieci anni in varie parti d'Italia e ricordo il Carlino questa lunga trafila già sei anni fa lo voleva Fano ma senza saperne leggere né scrivere lo facciano pure parlo in questo caso da interessato da Fanese facciano pure a Tavuglia va benissimo e siamo contenti i convertiti al vaccino quest'anno lo faccio ci sono persone che fino a qualche mese fa erano contrari a farsi il vaccino invece adesso si sono convertiti dicono ma sarà meglio farlo le interviste anche a chi prima non si era mai deciso ora invece è favorevole compreso Daniele Vimini il vice sindaco che dice appena arriva io procedo e mi faccio fare questo vaccino Alberto invece musicista dice non è nei miei pensieri neanche in tempi di pandemia il bollettino del Gores per la provincia di Pesurbino ieri altri 6 positivi molti da contatti familiari sono tutte persone comprese tra i 69 e i 29 anni residenti 3 a Pesero una a Fano e una persona a Mondavio e poi ce n'è una positiva anche ad Urbino si tratta di 3 femmine e 3 maschi il mio locale di 10.000 euro da 10.000 euro di spese al mese come avere la bombola dell'ossigeno Angelica Panzieri intervista Enrico Ricci titolare con il fratello dell'omonimo ristorante alla Torraccia dice ho preso il mutuo da 25.000 euro tutti i soldi che devo restituire la nostra è una strada che va sempre in salita la gente si è tornata ma spende molto molto meno nei primi 3 mesi di lockdown ci ho rimesso 30.000 euro le utenze ho dovuto pagarle adesso da quando riaperto ha avuto un calo del 20% anche se i coperti ora sono quelli pre-pandemia la politica Carloni verso le attività economiche poi il duello tra Aguzzi e Baldelli il pergolese e il fanese si giocano l'altro assessorato pesarese il primo punta sulla sanità ma deve fronteggiare parecchi ostacoli il secondo entrerebbe in giunta come esterno quindi Baldelli alla sanità e Aguzzi invece come esterno ma ha diversi rivali dopo la convalida della Corte d'Appello ogni giorno adesso è buono per annunciare la nuova squadra tra gli eletti di Forza Italia che rivendicano un seggio ci sono l'Anconetano Silvetti e il maceratese Pasqui è morto Giampaolo Landi il mister della VISA anni 70 professore di matematica prestato al calcio legò il suo nome alla città riportò la VISA in serie C con bella gamba Nicolini e Scavolini alla presidenza persona di alto profilo morale un vero signore della storica gara con il Carpi il funerale domani alle 10.30 a Forlì nella chiesa di Santa Caterina e poi ancora dal resto del Carlino Don Marco Don Marco di Giorgio incontra i giovani di Vallefoglia erede della parrocchia che per 37 anni è stata guidata a Don Orlando Digio così viene chiamato Don Marco di Giorgio ha fatto breccia nel cuore dei ragazzi impareremo a volerci bene insomma la simpatia di Don Marco è ormai nota a chiunque con Whatsapp gli adolescenti hanno tempestato il sacerdote di curiosità e poi il parroco ha rassicurato sugli appuntamenti più sentiti e amati intanto Piera la cartolibraria del paese oggi a Montecchio i suoi funerali i funerali di questa donna che è tanto amata è stata tanto amata e che si è spenta 93 anni avrà luogo il funerale oggi alle 15 nella chiesa di Montecchio e adesso la pagina di Fano il comune mette il rallentatore agli automobilisti in arrivo due zone nuove a zone 30 nelle vie trave della Fornace riunione con i residenti saranno installate in strada piastre rialzate e mini rotatorie allo studio c'è la possibilità di replicare nelle vie di Bella Gamba e via Galilei Stangat Tari invece Papalini interviene dice se le aziende dovranno pagare saranno costrette a licenziare sarebbe emersa una sorta di convocazione del sindaco negli uffici pesaresi di Confindustria per vedere di riuscire a comporre la questione in forma bonaria l'autocritica del PD a Fano Rammarico Perminardi il segretario Bacchiocchi e la presidente Cucchiarini dicono in lui si identificava un progetto politico per Fano e per tutto il territorio continueremo a puntare sulle capacità di tutti i dirigenti intanto Marta Ruggeri si dimette da consigliere comunale lettera aperta al sindaco Seri bisogna cercare di avere coraggio di valorizzare il lavoro altrui Gimarra sempre un quartiere di Fano avrà il suo centro anziani è previsto per la fine di novembre il termine dei lavori slittati per il covid di realizzazione della sede speriamo di poterci dice il presidente del club trasferire prima di Natale e organizzare momenti di incontro appunto in questa nuova sede rivogliamo il mercato nel centro storico a Fossombrone molti forsempronesi chiedono al comune di darsi da fare per riportare le bancarelle davanti ai portici l'amministrazione comunale ha chiesto ad una ditta di valutare la sicurezza per la clientela che si muove appunto nel corso di Fossombrone il codice camaldolese invece è patrimonio dell'UNESCO Fonte Vallana ha lanciato la candidatura ufficiale a Roma con il convegno dal titolo custodiamo le foreste che ci custodiscono Fossombrone il comune in aiuto dei commercianti e dei nuclei familiari abbattimento della tassa sui rifiuti per chi ha un'ISE sotto i 25 mila euro guardate questa persona per chi si sente un po' giù questa mattina perché dice ormai sono avanti negli anni gli acciacchi il collo la testa tutto quanto guardate questo signore si chiama Benito Rimini ha 94 anni e si è laureato per la terza volta tra l'altro una di queste lauree appresa nel 1990 anche a Durbino e con questo ci salutiamo qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti a stasera